blitz della polizia postale a giarre smascherato gruppo dedito alle frodi telematiche oltre 600.000 euro il bottino accumulato in due anni e mezzo allarme acqua sporca dacci sant'antonio il coda conso di fidel comune chiede la sospensione dei canoni idrici calcio scade oggi il termine per le sottoscrizioni associative per l'acireale il vicepresidente cannavò lancia un nuovo appello ben trovati buon inizio di settimana con il nostro tg reporter tra gli altri argomenti del nostro giornale in primo piano la questione di scariche che con l'arrivo della bella stagione è una questione un problema che si ripresenta e nelle strade del mare come abbiamo detto sabato via carico ripulita dai rifiuti a santa maria malati questa la buona nuova mentre due micro discariche ehm vi sono sulla provinciale che collega santa venerina con aci reale ma parleremo d'altro ci sarà spazio per la politica eh la brischetto di ritorno da pontida e ehm conosceremo meglio eh tra gli assessori della nuova giunta acese palmina fraschilla e le sue eh tante deleghe eh assessoriali poi per quanto riguarda l'intrattenimento le sagre estive tutto pronto ad aci reale per la seconda edizione della sagra do ociunzu di Aci questo è altro dunque all'interno del nostro giornale eh frodi telematiche in primo piano blitz della polizia postale a giarre e nell'interland sentiamo la base logistica operativa era situata nell'area ionica tra giarre riposto a fiume freddo e comuni limitrofi maxi operazione della polizia postale di catania contro le frodi telematiche e che ha portato all'arresto di 14 persone mentre altre 32 sono indagate in stato di libertà oltre 600 mila euro frutto dei guadagni illeciti realizzati durante il periodo delle indagini avviate a fine 2015 a seguito di una frode informatica ai danni di una banca online ai cui clienti residenti in varie parti d'Italia erano stati sottratti 300 mila euro l'associazione era dedita alla realizzazione di frodi informatiche del tipo sim swap frodi informatiche complesse e articolate in vari passaggi una volta individuata la vittima si procede all'acquisizione dei suoi dati e delle sue credenziali di on banking tramite tecniche di hackeraggio successivamente si passa alla realizzazione di documenti falsificati si sostituisce la sim card della vittima e attraverso lo stesso numero telefonico si ottengono dalla banca le credenziali per operare sul conto corrente online ed ecco l'emissione di bonifici e ricariche di carte prepagate di complici e prestanome del gruppo criminale così da ostacolare anche l'identificazione della provenienza delle somme e l'individuazione degli effettivi beneficiari dei proventi del reato la serrata successione temporale delle varie sequenze così non consente alla vittima di attivare tempestivamente i dispositivi di sicurezza in pratica ci si accorge della frode solo a fatto compiuto alcuni componenti del sudalizio inoltre sono stati molto attivi anche nella commissione delle più comuni truffe online inserendo ad esempio false annunci di vendita su portali specializzati come subito.it e poi affidandosi a soggetti terzi che si intestavano carte prepagate sulle quali far pervenire i proventi dei reati nonché schede telefoniche utili a mantenere i contatti con le vittime il gruppo criminale insomma era dotato di buone conoscenze tecniche e padronanza delle dinamiche che regolano le compravendite online il blitz è scattato stamani all'alba nel popolare quartiere di via Carducci zona teatro a giarre tra i 14 arrestati tre sono finiti in carcere il 27enne il 35enne di giarre rispettivamente luca florio e alfio mancuso e il 25enne di fiume freddo antonio nucifora agli arresti domiciliari invece altre 11 persone tra i 22 e i 49 anni uomini e donne residenti a giarre piedi monte e riposto l'operazione si è avvalsa dell'ausilio degli specialisti nel contrasto al fenomeno del financial cybercrime dei compartimenti polizia postale di messina palermo e reggio calabria ancora un incendio auto nella notte a fondachello nel dedalo di stradine alle spalle di via spiaggia nell'agglomerato turistico balneare intorno alle 3 e 30 è andata in fiamme una fiat punto che era in sosta sul ciglio di una di queste stradine tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di riposto sull'episodio l'ennesimo registrato in questi giorni indagano i carabinieri della compagnia di giarre rifiuti a gogo ad acireale con il personale della tecra impegnato nella bonifica dei luoghi vediamo come il gatto con il topo si pulisce ad acireale dai rifiuti una zona se ne continua così a sporcare un'altra in questo fine settimana gli operatori della tecra in tal modo hanno provveduto a rimuovere le diverse decine di sacchetti di rifiuti che vi erano a Santa Maria ammalati lungo la via carico subito dopo l'abitato l'azione come sempre poco civile dei vandali dell'ambiente aveva finito con il creare una cartolina poco edificante di questa arteria nel tratto citato di competenza però provinciale in ciò confidando nel fatto che difficilmente la zona era coperta da impianti e fototrappole del comune di acireale ecco allora dare luogo gli incivili ad uno sport praticato da tanti cioè quello del lancio del sacchetto di rifiuti al volo dall'auto da un luogo ad un altro sempre nell'area nord del territorio accese condizioni di degrado per la presenza sempre di rifiuti è possibile osservare perciò lungo la provinciale che collega Santa Venerina con le frazioni accesi di guardia e mangano in questo caso le micro discariche sono ubicati in due slarghi nell'ultimo tratto del tracciato quindi in pieno territorio accese ad un tiro di schioppo dall'incrocio con la statale 114 anche qui tiene banco ma non solo il lancio del sacchetto al volo ogni commendo appare inutile e a proposito di rifiuti passeggiata ecologica ieri in alcuni punti del centro storico cittadino per i 14 consiglieri comunali del movimento 5 stelle che sosterranno l'attività amministrativa del neosindaco stefano ali i neoconsiglieri insieme alla deputata regionale angela foti partendo dalla loro sede di vico nicolosi passando per il corso umberto e fino al viale regina margherita hanno raccolto ogni genere di rifiuto ritrovandoci a disposizione il materiale occorrente ha commentato angela foti abbiamo voluto dare un segnale alla città aiutando tutti a riflettere sull'importanza di mantenere pulito ognuno il proprio piccolo spazio è morto la scorsa notte sebastiano gesù critico cinematografico e storico del cinema era nato nel 46 a santa venerina e come ricorda il preside giovanni vecchio suo grande amico era un grande animatore socio culturale con particolare predilezione per il cinema fondò il cine circolo le muse appassionato di storie del cinema ha poi sviluppato l'attività di ricerca sul cinema delle origini nonché sul rapporto tra la letteratura e la storia siciliana e appunto il cinema i funerali avranno luogo domani pomeriggio alle 16 nella chiesa del sacro cuore di gesù a santa venerina ci fremmiamo pausa pubblicitaria tra poco il centro analisi saeme informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato le analisi vengono effettuate in sede il centro analisi saeme del dottor di carlo è in via marchese di san giuliano 21 a cereale vicino la biblioteca zelantea per info 095 60 48 83 a vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia è arrivata è arrivata l'anzolata già lavata bella fresca bella fresca e non sana da rete sulla riviera ionica coltiviamo le nostre verdure genuine già pulite e pronte da gustare bella fresca l'insalata siciliana a chilometri zero opel carlo rox il mini sub da città opel carlo rox a riposto da g da auto point presso centro commerciale con forama guarda amore il mini sub da città opel carlo questa voglio amore ti piace la nostra nuova macchina mamma è bellissima la nostra opel carlo rox g d'auto concessionaria opel a catania in via brancati 25 45 e a riposto g d'auto point presso centro commerciale con forama ai magazzini del risparmio abbiamo scelto la qualità specializzandoci sull'abbigliamento uomo con linee cerimonia casual o giornaliero controlla le firme facis ingram rodrigo cassera alan bevis milestone naturalmente senza tralasciare i reparti donna neonato e l'intimo ragno lovable fila trussardi e aggiungendo uno store per la casa e corredi con il meglio da zucchi caleffi trussardi cavalli magazzini del risparmio di scalia musmarra dal 1890 veste le generazioni in piazza duomo dal 22 al 27 di fronte la cattedrale a cireale acqua sporca ad aci sant'antonio il codacons diffida il comune chiede la sospensione dei canoni idrici vediamo ad aci sant'antonio il problema acqua torna ad essere il vero protagonista della stagione estiva sui social sono tante le immagini e video che ritraggono un'acqua di colore bianco frizzante fino a formare una sorta di schiuma nel peggiore dei casi l'acqua è addirittura arancione una situazione che impaurisce i cittadini che chiedono immediate analisi la cosetta da parte sua rassicura i residenti sant'antonesi il direttore generale fabio fatuzzo ha assicurato che dalle costanti analisi si evince che l'acqua non presenta alcuna anomalia ma il codacons non ci sta diffida il comune e chiede al sindaco santo caruso di disporre immediate verifiche circa la reale potabilità dell'acqua e circa la sospensione della riscossione dei canoni al danno si aggiunge la beffa afferma l'avvocato carmelo sardella dirigente dell'ufficio legale regionale del codacons quella porcheria viene fatta pagare a caro prezzo riteniamo doveroso prosegue che il sindaco si attivi immediatamente per fornire alla cittadinanza una certificazione sulla base di analisi scientifiche dell'attuale condizione dell'acqua intanto pretendiamo conclude un'ordinanza che inibisca l'utilizzo per il consumo umano e chiediamo al sindaco di attivarsi pubblicamente affinché agisca contro l'acosette chiedendo la sospensione del pagamento dei canoni idrici a tal fine sollecitiamo la convocazione di un consiglio comunale aperto alla cittadinanza su una questione che attiene alla salute della popolazione a chiedere immediate verifiche sulla potabilità dell'acqua c'è anche Giuseppe Finocchiaro, neoeletto consigliere comunale di ACI Sant'Antonio tra le fila del Movimento 5 Stelle sicuramente allarma vedere acqua di colore arancione segno che la rete infrastrutturale potrebbe essere gravemente ammalorata con grave pregiudizio per la salute dei cittadini urgono al tal riguardo i rilievi specifici in situazione di accertata criticità ed emergenza da affidare ad organi terzi, prosegue Finocchiaro in quanto i canonici controlli del gestore riguardano prelievi effettuati sulla qualità dell'acqua in fase di canalizzazione mentre tale problema sembrerebbe interessare la rete di distribuzione la priorità assoluta, conclude, risulta essere valutare l'eventuale criticità infrastrutturale il primo cittadino, Santo Caruso, ha richiesto all'ACOSET le analisi effettuate a metà maggio da cui emerge la certa potabilità dell'acqua ma ha richiesto proprio oggi di fare un'ulteriore verifica suppletiva ho ripetutamente parlato con i tecnici dell'ACOSET di Caracaruso i quali mi hanno spiegato più volte che questo problema che interessa solo il centro cittadino e non le frazioni dipende dal fatto che in centro l'acqua viene immessa direttamente nella rete idrica senza passare per i serbatoi e dunque si carica di aria al Codacons invece il sindaco risponde consigliando di indirizzare la diffida direttamente all'ACOSET per quanto riguarda i canoni il primo cittadino sottolinea che non vengano percepiti dal comune che dunque non può dare disposizione alcuna per quanto riguarda invece i controlli sulla rete idrica richiesti da Giuseppe Finocchiaro Caruso ricorda che nel 2011 l'intera rete è stata ceduta all'ACOSET e il comune non risulta più esserne proprietario Santo Caruso tuttavia conclude affermando che in qualità di massima autorità sanitaria del territorio pretende una costante azione di controllo sulla potabilità dell'acqua che ha sempre curato e continua a curare personalmente Restiamo ad ACI Sant'Antonio anche se con argomenti completamente diversi da quelli appena trattati i carabinieri infatti della stazione di ACI Sant'Antonio hanno arrestato un 33enne del posto ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex una donna vedova con una figlia minorenne che è stata perseguitata con pedinamenti telefonate e messaggi dal tono minaccioso che alla fine dello scorso giugno l'hanno costretta a denunciare tutto ai carabinieri i militari per preservare la sua incolumità le hanno fornito un numero di telefono mobile a cui rivolgersi per qualsiasi situazione di pericolo telefono che è tornato utile proprio ieri sera alla donna che ha chiamato all'armata i militari sostenendo che l'ex fidanzato da circa 15 minuti la inseguiva in auto mentre la donna si trovava con la figlia minorenne cercando in tutti i modi di bloccarle rischiando di farle causare un incidente stradale i militari hanno prontamente risposto alla richiesta d'aiuto hanno raggiunto il persecutore in via Nicola Maugeri lì lo hanno bloccato e ammanettato l'uomo è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria questa sera alle 20 consiglio comunale a Santa Venerina la presidenta del consiglio comunale uscente Valeria Rapisarda alle 20 ha convocato nella sala consigliare Maria Grazia Cuturi la prima adunanza del nuovo consiglio comunale all'ordine del giorno il giuramento dei consiglieri eletti l'elezione del presidente del consiglio e del vice il giuramento del sindaco e la comunicazione di nomina della giunta comunale da Santa Venerina ad Acireale la settimana scorsa immediatamente sono passate appena 24 ore dall'insediamento del neo sindaco lo stesso primo cittadino ha conferito le deleghe assessoriali alla sua squadra tante deleghe importanti per Palmina Fraschilla politiche sociali pari opportunità politiche giovanili sport protezione civile e pubblica istruzione proprio dalla pubblica istruzione la neo assessore Fraschilla è partita la sentiamo sono recata presso gli uffici della pubblica istruzione ho avuto modo di confrontarmi con la dottoressa Borzio ho anche incontrato il dottor Alfio Liccerdello insieme con l'assessore Pirrone e con il dirigente Domina abbiamo incontrato appunto i dirigenti scolastici per capire come muoverci nell'immediato ovviamente andando a visitare tutte le scuole in maniera che si possa agire in sinergia istituzioni e quelle appunto che rappresentano i bisogni del territorio io sarò sempre presente considerato anche il numero di deleghe che ho ricevuto le politiche sociali l'istruzione lo sport la protezione civile e le politiche giovanili ecco tante deleghe importanti ma a proposito dei bisogni nel campo dei servizi sociali delle politiche sociali del territorio ha già avuto modo di fare una analisi dei bisogni? faremo un'analisi dei bisogni è vero pure che in passato da Libero Cittadino il nostro sindaco Stefano Ali aveva già in qualche modo ci aveva illustrato quali sono non dico i bisogni della nostra realtà a CES però è chiaro che ci sono circa 3.500 persone ad Acireale senza reddito abbiamo famiglie che vivono con un reddito pari a 500 euro al mese e abbiamo 9.000 famiglie invece che vivono con un reddito di poco meno di 1.000 euro al mese per cui è necessario fare l'analisi del bisogno è necessario coinvolgere per esempio il CSV e le varie associazioni per capire come muoverci per tante mie intenzioni anche incontrare i vari parroci delle varie parrocchie e capire bene cosa fare nell'immediato perché nessuno venga lasciato solo siamo nel campo della politica ieri a Pontida la convention della Lega che ha registrato la presenza oltre che del presidente della regione siciliana Nello Musumeci anche di Giusy Brischetto candidato a sindaco di Acireale alle recenti elezioni Giusy Brischetto Lega Salvini-Acireale che in un comunicato dice oggi è una data storica per la Lega Salvini-Acireale abbiamo conosciuto il vero spirito della Lega bambini, donne, uomini, famiglie hanno affollato il prato che storicamente raduna ogni anno chi si impegna con questo partito una vera e propria festa con Matteo Salvini e tutti i parlamentari e dirigenti della Lega presente abbiamo promosso dice ancora Giusy Brischetto e parlato del nostro territorio non dimenticando le criticità e le possibili vie di sviluppo future un vero spirito di fratellanza che ci ha reso orgogliosi di rappresentare la Lega ad Acireale e Acireale a Pontida siamo stati i primi continua poi la Brischetto a congratularsi con l'ingegner Ali a lui diciamo che la Lega è presente e vigilerà sulle azioni di questa parte politica sarà propositiva non lascerà nulla di intentato per risollevarne le sorti abbiamo sin da subito proposto il nostro progetto politico a coloro i quali hanno sempre detenuto lo scettro della destra accese a tutti i giovani che in città hanno fatto fino ad ora politica attiva ma è stata prediletta una scelta civica e opportunistica adesso è ora di ripartire la Lega è pronta il centro-destra accese va sicuramente riformato siamo aperti al dialogo facciamo appello a chi crede nel centro-destra in Matteo Salvini e vuole davvero il bene di Acireale abbiamo oggi la possibilità tutti insieme con un partito al governo di portare un contributo per la nostra città così Giussi Brischetto della Lega Salvini Acireale cambiamo argomento la frazione accese di Santa Maria delle Grazie oggi in festa per le solenni celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie dopo le celebrazioni del mattino nel pomeriggio alle 21 nel cortile parrocchiale solenne celebrazione eucaristica presieduta da Giovanni Mammino vicario generale della diocesi al termine spettacolo pirotecnico i festeggiamenti proseguiranno comunque per l'intera settimana per concludersi lunedì prossimo con l'ottava tra i momenti clou domenica prossima alle ore 19.30 la solenne uscita del quadro della Madonna e la processione lungo la via nazionale per Catania nasce ad Acireale il polo dell'infanzia Paradise Club una struttura moderna allineata alla didattica adottata nei poli d'eccellenza europei spazio dunque a Paradise Club poi la pubblicità nasce ad Acireale in via Cervo 46 il polo dell'infanzia Paradise College una struttura moderna su misura per i bimbi con simpatici personaggi dei cartoni animati sulle pareti pronti ad accogliere i piccoli amici dagli 0 ai 6 anni una struttura che offre un servizio di nido e che segue via via i bambini fino alla prima infanzia è una scuola paritaria che accoglie valorizza ed estende le curiosità le esplorazioni e le proposte dei piccoli ospiti al fine di creare occasioni e progetti di apprendimento atti a favorire l'organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo un luogo dove i più piccoli diventano i veri protagonisti non acquisiscono solo il sapere ma imparano a saper essere e a saper fare grazie a delle strategie di cui si avvale il corpo insegnante preparato e qualificato che si impegna a rassicurare i bambini ad aiutarli a sviluppare la loro autonomia e la loro creatività in un ambiente di intensa e serena reciprocità emotiva un polo improntato sulla didattica danese la pre-folk school la punta di diamante dell'insegnamento europeo il bambino non diventa fruitore passivo ma diventa attore protagonista dell'insegnamento novità anche negli ambienti dell'apprendimento che sono strutturati in maniera completamente diversa non esiste più la tradizionale cattedra dell'insegnante e i normali banchetti per i bambini alla Paradise College Ognaula propone una struttura circolare dove l'insegnante non sta davanti ai bambini ma accanto a loro e con amore ed edizione li affianca nel loro percorso di crescita stanze colorate un ambiente che catapulta in un'atmosfera sarà tutta fiebesca una struttura che per la gioia dei bimbi rimane aperta tutto l'anno Paradise College sarà aperta tutto l'anno con orario dalle 7.30 alle 19.30 compreso anche saremo aperti anche il sabato e la domenica perché il polo per l'infanzia ha una ludoteca proprio per le feste di compleanno sono comunque diverse attività che i bambini possono svolgere oltre a uno spazio esterno di aria giochi esterno di oltre 150 metri quadri quindi è un servizio completo che viene offerto alle famiglie inoltre un altro dato fondamentale a cui prestare particolare attenzione è quello che il polo per l'infanzia Paradise College attribuisce notevole importanze all'inclusione quindi questa è la scuola inclusiva dove tutti i bambini possono e devono assolutamente frequentare un ambiente adatto proprio a misura di bambino i bambini anche con bisogni educativi speciali e quindi ecco perché la nostra offerta formativa è rivolta ad una larga esigenza delle famiglie il tempo viene articolato in base all'attività da svolgere dall'attività motoria all'apprendimento delle lingue straniere nel periodo scolastico inoltre nelle ore pomeridiane viene offerto anche un servizio di doposcuola con particolare attenzione anche alla didattica speciale un luogo che accoglie e include a 360 gradi insomma si tratta di un vero e proprio paradiso per i più piccoli a posto a posto a posto i professionisti dell'auto metti in sicurezza la tua auto controllandola dalla A alla Z da Service Car a posto controllo elettrauto meccanico carrozzeria gommista centro revisioni affidati a noi per la prima volta ad Acireale una struttura completa per l'assistenza della tua auto a posto Service Car di Riolo via Salvatore Vigo 45 per info 095 60 42 69 scopri gli incentivi e le promozioni in atto a posto in tutta Italia in 1800 centri prenota un check up sicurezza con soli 19,90 euro ne otterrai 10 gratuiti la palestra alla Space Fitness prima ti abboni meno ti costa approfitta non dire poi vado domani fallo subito e scopri come puoi risparmiare sul tuo abbonamento annuale oltre 100 euro Space Fitness Gym & Dance ora è ancora più bella con molti nuovi spazi in più per le tue attività e il tuo relax sale attive dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 23 il sabato dalle 9 alle 18 e 30 corsi di aeropump fit step jump spinning spin bike sanda pilates spider up walking striding fitball Space Fitness via canne di 49 a Cireale per info 095 095 836 3751 iscriviti e ti metti in forma all'istituto comprensivo statale e la matematica e la matematica non è un problema per studenti di scuola secondaria di primo grado matematica con il coding per studenti di scuola primaria hanno collaborato al progetto oltre al personale della scuola dei professionisti esterni enti e associazioni resisi disponibili a titolo gratuito insieme per crescere progetto PON dell'istituto comprensivo statale Paolo Vasta di Acireale E adesso parliamo di gusto e tradizione dopo il successo dello scorso anno torna ad Acireale la seconda edizione della Sagra do Trunzu di Aci tre giorni all'insegna appunto del gusto della tradizione e delle innovazioni culinarie vediamo tutto pronto per la seconda edizione della Sagra do Trunzu di Aci organizzata dal Circolo Santa Venera in programma per questo fine settimana quest'anno sarà Piazza Peppino Impastato ex Piazza Cappuccini ad ospitare l'evento che come di consueto offrirà la possibilità di assaggiare primi, secondi piatti e insalate a base di trunzu una tre giorni che avrà inizio questo venerdì a partire dalle 19 con l'inaugurazione e apertura dell'evento alla presenza del sindaco di Acireale Stefano Ali e dell'amministrazione comunale ad animare la prima serata l'intrattenimento con karaoke e balli di gruppo il tutto a cura dell'animatore musicale Ignazio Palella sabato l'apertura della Sagra sarà anticipata alle 17 seguirà poi il workshop con il presidente del presidio Slow Food Enzo Pennisi e alle 21.30 lo spettacolo musicale dei Brigantini in concerto domenica si anticipa ulteriormente l'apertura della Sagra che a partire già dalle 10 del mattino infatti darà la possibilità a cittadini e turisti di gustare le numerose specialità a base di tronzu fra cui l'imperdibile Arancino in serata inserata infine il concorso di bellezza nazionale Miss Motors Italy 2018 selezione provinciale a Cireale che concluderà l'evento nel fine settimana inoltre sarà possibile anche ammirare le esposizioni di auto d'epoca a cura del club motoristico accese da una ruota in su e parliamo di calcio scade oggi il termine per le sottoscrizioni associative per la Cireale quel che è fatto ormai è fatto ed anche quello che non è stato fatto purtroppo resta tale oggi infatti scade il termine per la sottoscrizione delle quote associative per salvare la Cireale Calcio e la situazione attuale non è delle migliori le aspettative infatti non fanno il paio con la realtà e il vice presidente dell'associazione Noi siamo a Cireale Gianluca Cannavo non fa giri di parole siamo a metà dell'opera nel senso che abbiamo veramente avuto un grande successo e di questo ringraziamo tutti coloro che hanno sottoscritto le quote trovare oltre 100 persone che hanno versato dai 500 ai 2000 euro per il bene della Cireale Calcio credo che era impensabile tanti sacrifici tanto lavoro e di questo veramente ringrazio tutti dal presidente Fasone a tutti i collaboratori a tutti coloro che in questi giorni ci hanno aiutato da un punto di vista cartaceo documentale abbiamo le carte regola per essere iscritti abbiamo un piano finanziario già fatto però obiettivamente con una mancata copertura di oltre il 50% cerchiamo supporti importanti supporti che ci possono mettere nelle condizioni di iscrivere la squadra ma soprattutto di fare una stagione degna di questo nome iscrizione e serie D comunque non dovrebbero essere a rischio ma si farà quel che si può ecco perché particolarmente importante e delicata risulta essere la transazione economica e relativo accordo con i tesserati della passata stagione la questione transazione con gli ex tesserati diventa indispensabile perché venendo a mancare la parte di sottoscrizione che avevamo previsto la transazione con i giocatori è importante tanti di loro hanno detto negli anni di essere legati alla maglia di essere legati al territorio di essere legati alla tefoseria e ora lo possono dimostrare con i fatti e nelle prossime ore entro domani saranno chiamati a una proposta concreta dovremmo trovare la sintesi potranno dimostrare con i fatti il loro attaccamento o lo fanno ora o non c'è più tempo per cui ora ci vogliono i fatti concreti l'appello mio è quello alla città che ancora oggi c'è la possibilità di sottoscrivere e di aiutarci e poi l'appello è anche ai tesserati ai giocatori della cereale calcio che possono transare le somme che avanzano con una transazione con dei pagamenti concordati e far sì che il calcio della cereale non muoia e possa avere veramente un futuro nuovo mercoledì sera intanto è prevista una riunione interna con tutti gli associati che hanno sottoscritto le quote associative bisognerà capire il da farsi bisognerà farlo in tempi brevi perché l'iscrizione deve essere formalizzata entro il 12 luglio alle 18 la nuova proprietà intanto ha già stabilito contatti anche con la nuova amministrazione comunale guidata da Stefano Ali sul tavolo la situazione economica del club ma anche la questione Tupparello perché la cereale deve rinnovare la convenzione scaduta sabato scorso e nel contempo richiedere la riapertura della curva nord e il ripristino del manto erboso lasciato a se stesso ed ormai in pessime condizioni dieci giorni insomma da qui al 12 luglio bollenti che squarceranno il velo che ad oggi nasconde ancora il futuro di Granata andiamo a chiudere lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani cielo soleggiato e caldo diffuso temperature stabili comprese tra 22 e 36 gradi 20 deboli mare calmo grazie per essere stati con noi TG Reporter vi aspetta domani sempre alle 13.40 arrivederci grazie per la visione grazie per la visione